In compagnia di Michele Marino per quanto riguarda il lavoro che la Sarim sta svolgendo nel comune di Castellabatte con questa nuova raccolta differenziata che è partita il 24 febbraio e con lui a distanza di un mese già siamo in grado di fare un bilancio naturalmente iniziale di quello che è il comportamento dei cittadini di Castellabatte nel fare la raccolta differenziata. Allora dottor Marino, come sono i dati? Siamo sicuramente in presenza di un risultato soddisfacente, anzi direi anche qualcosa di più soddisfacente perché i cittadini di Castellabatte hanno risposto in maniera egregia. Siamo felici e contenti del grande senso di responsabilità degli abitanti, delle attività commerciali che sono state tutte quante ben coinvolte in questa nostra azione che abbiamo fatto in questa fase della campagna di sensibilizzazione grazie soprattutto poi anche all'impegno diretto dell'amministrazione comunale che con la presenza costante del sindaco e soprattutto dell'assessore di Luccia praticamente fanno un lavoro quotidiano sia di stimolo a noi come impresa sia ai cittadini stessi perché hanno trasmesso questa loro voglia di dare un valore a questo servizio di raccolta differenziata e quindi ottenete risultati che poi vi possono essere un fiore all'occhiello per tutto il paese. Noi quando siamo arrivati qui nello scorso mese di agosto abbiamo trovato una situazione abbastanza difficoltosa dovuta a una serie di problematiche legate sia agli smaltimenti che alle problematiche dei dipendenti purtroppo che avevano dei problemi con la precedente gestione. Avevamo un valore dell'accolta differenziata che era intorno al 50%. Ad oggi stiamo valutando i primi dati del nuovo servizio di raccolta e vi posso dire con grande soddisfazione siamo a valori superiori al 78%. Qualcosa che ci rende felici e pieni di orgoglio noi e chiaramente i cittadini stessi di Castellabate. Rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti i cittadini del comune di Castellabate e non anche i numerosi vacanzieri che affollano già in queste settimane il nostro territorio per la sensibilità mostrata verso questo tema ambientale di tutela di rispetto del nostro territorio. È un risultato ambizioso dicevo quando abbiamo avviato la campagna di sensibilizzazione il 24 febbraio allorquando abbiamo promosso con tutte le tv le testate giornalistiche questo avvio di questo sistema rivoluzionario che non riguarda semplicemente l'organizzazione nuova della raccolta differenziata sul territorio del comune di Castellabate ma va oltre. Stiamo entrando nelle scuole, stiamo entrando in tutti gli uffici pubblici, stiamo coinvolgendo tutte le attività imprenditoriali del territorio. L'inizio della primavera abbiamo avuto una partecipata riunione con tutte le strutture ricettive del nostro territorio, ricettive, turistiche e commerciali e c'è stata una partecipazione veramente sentita, una partecipazione motivata che ci spinge sempre di più a fare meglio e andare nella direzione giusta. Abbiamo dati ufficiali dicevo, oggi Castellabate nel giro di ben 30 giorni si attesta intorno al 78% di raccolta differenziata che è un risultato eccezionale. Riconosco l'attenzione, riconosco la capacità di attaccamento e la capacità di collaborazione e di partecipazione della comunità dei cittadini di Castellabate, il risultato è loro, il risultato è vostro, su questo dobbiamo continuare, su questo dobbiamo cercare di migliorare, anche perché il nostro lavoro è finalizzato al mantenimento di standard di eccellenza che Castellabate ha raggiunto negli anni, i riconoscimenti che noi abbiamo conseguito, le bandiere blu, i borghi più belli d'Italia, le 5 vedi lega ambiente, i riconoscimenti che ci vengono da ogni parte d'Italia, non possono prescindere da questi risultati e non possono prescindere da queste attestazioni che non sono del sindaco, ma sono dell'intera comunità e ne beneficia la qualità della vita, il rispetto dell'ambiente e l'insieme di quello che Castellabate rappresenta e dovrà rappresentare oggi e nel futuro.